Sì, 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 mi stai affacciando l'esercito! Ciao! Sì, e due. Dopo di questo andiamo, eh? Vai! Ciao, ciao, siete bellissime? Ciao, poi io toccato! Ciao, lui, ci sono? Ciao, l'ho detto, basta, basta! Va bene? Ha va bene? Mi è toccato il musato al lasinello! È tutto il lesso e il fulpato. Vivi, il lasinello! Guarda i cucciolini, guarda che sono carini i picciolini, i cucciolini di bisontino, i bisontini dolci. Chi è? Davvero? Su, Zerio! Il cammello!